Prima di passare la parola, volevo ricordare alcuni aspetti che secondo me sono significativi sugli ultimi passaggi di Sciascia. Stamattina quando il professore Ferdinando Raffaele, che ringrazio perché è stato il presidente del comitato scientifico che ha elaborato questo progetto, ha spiegato la parabola di Sciascia, è stato illuminante, con grande dote di sintesi ha spiegato Sciascia che parte illuminista, che parte materialista, che parte ateo e finisce invece per una serie di considerazioni, ma attraverso un percorso graduale, non ci sono stati traumi, sì c'è stata l'accelerazione dei fenomeni che ha descritto benissimo Vittorio Sgarbi o quelli che ha descritto bene il professore Rapisarda, però è stato un percorso continuo e dicevo in questa parabola poi alla fine si ritrova un Sciascia anticomunista, uno Sciascia che non è marxista, la sua visione illuminista completamente abbandonata e addirittura la scoperta di Dio. Io ritengo che c'è anche qualche altro aspetto che meriti di essere sottolineato e sarà proprio l'intervento del professore Vitale a evidenziarlo e secondo il mio amministro parere è sintetizzato in questo aspetto, la lotta del bene contro il male, da una parte i mafiosi, dalla parte di chi sta appunto, chi ha scelto di stare dalla parte del bene, però con delle sfumature ben precise perché anche chi sta dalla parte ufficialmente del bene, poi magari per colpa di scelte vita ambigue o forse borghesi, in verità non è esattamente il bene. Li conosciamo bene, i personaggi che specialmente nel giorno della Civetta sono stati ben descritti con queste sfumature, con queste analisi, però dove sta il tema? Che secondo me deve essere oggetto di attenzione e di evidenzazione e comunque come spunto di riflessione per Enzo Vitale. Che c'è il progetto della redenzione della Sicilia. Il protagonista principale, il capitano Bellodi, a un certo punto perde, perché perde la sua sfida, i mafiosi vengano assolti, però lui dice io ci ritorno là, mi ciro un po' la testa. Io ho visto queste parole di Bellodi anche nel significato profondo dell'intervento di Vittorio Sgarbi. Perché non è soltanto il senso del dovere che fa dire a questo straordinario carabiniere che vuole ritornare sui luoghi per combattere la mafia, ma c'è anche la volontà di dire io amo questa terra, io ho deciso di lavorare e di lottare per questa terra. Quanti uomini onesti, quante persone straordinarie nel silenzio della loro azione fanno questa scelta tutti i giorni. Questa Sicilia straordinaria che ha dato oltre 300 vittime nella lotta alla mafia, perché noi siciliani ce li sappiamo risolvere i problemi da sola, perché Livatino, Falcone, Borsellino, Don Puglisi, Basile e così via con gli altri 290, non erano piemontesi e non erano veneti, erano tutti siciliani. E soprattutto il grande messaggio che lancia Sciascia, che secondo me deve essere oggetto anche di riflessione, vi lascio con questa riflessione, è un altro. Rispetto alla lotta originaria, la sovrastruttura che lui immaginava, la sua visione illuministica diceva costruiamo un mondo diverso, una struttura diversa, e poi dentro le coscienze cambieranno. Una visione tipicamente dirigista, marxista. Poi pian piano cambia il messaggio. Vuoi cambiare la Sicilia? Cambia il mafioso che c'è dentro di te. Distruggi tutto quello che è negativo in te, l'orgoglio, la cattiveria, l'egoismo, la prepotenza, l'arroganza, che sono, diciamo la verità anche, caratteristiche che hanno tutti i popoli, ma che sicuramente noi abbiamo fatto nostri. Ai ragazzi presenti invito di andare a leggere l'ultima intervista di Falcone, quella lasciata a Marcel Padovani, cose di Cosa Nostra, quando si parla della caratteristica del siciliano, la cultura mafiosa che caratterizza alcuni siciliani, molti siciliani, essere forte con i deboli, deboli con i forti, fare mure di gomma, creare le condizioni perché si abbia un tornaconto. Io ritengo che questa Sicilia è minoritaria. Quella militare è stata sconvitta, merito anche del governo, dobbiamo dirlo, di questo governo che ha fatto misure eccezionali con messo il sequestro dei patrimoni. Per la prima volta sono stati sequestrati i patrimoni mafiosi, con celerità, 5 miliardi e 200 milioni di euro sequestrate alla mafia da un anno a questa parte, sono la prova concreta che gli artigli sono stati spuntati. Da che mondo è mondo? Quando c'è un calciatore mette in conto l'infortunio, la metafora mi serve per dire l'arresto è messo in conto dal mafioso. Quando gli si toglie il patrimonio, lì cominciano a cambiare le cose. Quello che è stato fatto da parte di questo governo è senz'altro questa azione. Quindi lascio, accompagnando anche Vittorio Sgarbi con un applauso che vi prego di fare caloroso perché è un grande amico della nostra città, lascio questa riflessione a Enzo Vitale. Uccidere il mafioso che è in noi. Grazie.